Nessun bambino resti indietro nella sua formazione. Dall'amministrazione comunale di Sala Consigna, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, una nuova stimolante iniziativa rivolta in particolare ai bambini con difficoltà. Vista la disponibilità di fondi arrivati dal piano di zona per le iniziative sociali sul territorio, l'assessore alle politiche sociali Elena Gallo e l'assessore all'istruzione Michele Galiano hanno deciso di puntare su una nuova dotazione libraria per i bambini delle scuole primarie ed in particolare per i piccoli affetti da disabilità e da difficoltà di apprendimento. Questa mattina, presso le scuole dei due circoli didattici di Sala Consigna Viscigliete e Istituto Comprensivo Camera, l'assessore Gallo e l'assessore Galiano hanno consegnato una cinquantina di libri tattili. Si tratta di volumi particolarmente indicati non solo per i più piccoli, ma anche nei bimbi affetti da disabilità perché si sono rivelati nel tempo utili strumenti per stimolare la percezione sensoriale, favorendo anche l'inclusione scolastica per i bambini con difficoltà nell'uso dei cinque sensi. Si tratta di una prima tranche di donazioni con la fornitura di libri in cartone in attesa di poter donare ai due circoli didattici salesi volumi in stoffa la cui realizzazione, a seguito della diffusione del Covid, è stata interrotta. Noi in effetti abbiamo raccolto l'invito di un insegnante di una nostra scuola primaria che lo scorso mese aveva chiesto, aveva invitato tutta la cittadinanza ad acquistare libri tattili per i bambini con difficoltà. Ci è sembrato giusto come istituzione, come comune, essere tra i primi a raccogliere l'invito Quello di stamattina è un piccolo segnale per far comprendere che le istituzioni sono vicine e sono consapevoli alle difficoltà che i tanti bambini con disabilità incontrano nella vita di ogni giorno e quindi anche a scuola. È un nostro impegno a fare sempre meglio, a fare sempre di più perché è soltanto una piccola goccia nel mare delle grandi necessità di questi bambini. Abbiamo deciso quest'anno di fare questa Befana perché riteniamo che stiamo interpretando la volontà di tutti quanti e anche dei bambini senza difficoltà e quindi come l'anno scorso, due anni fa, abbiamo ideato e siamo la prima realtà nel territorio la ludoteca per i bambini con difficoltà è un'altra piccola iniziativa che va in questa direzione. Abbiamo tentato di dare qualcosa a questi bambini perché sicuramente i genitori già fanno tanto per loro e noi abbiamo tentato di dare qualche strumento da utilizzare a scuola e abbiamo pensato di farlo prima della Befana come un piccolo regalo per loro. Un piccolo segnale, fornire degli strumenti per tentare di apprendere qualcosa in più. Questo è quello che abbiamo pensato di fare, un piccolo sforzo da parte dell'ente che cerca di andare incontro a queste problematiche. Grazie.